Nessun medico straniero in arrivo in Puglia. Per far fronte alla grave carenza di medici negli ospedali pubblici e nel sistema di emergenza urgenza, l'assessore regionale alla sanità Rocco Palese fa ricorso ai medici pensionati, sfruttando la proroga contenuta in un decreto legge nazionale entrato in vigore all'inizio di agosto, che consente l'assunzione di personale in quescenza per far fronte allo stato di emergenza. Lo si poteva fare dal 2020, ma grazie alla proroga e alla circolare attuativa della regione, le asla pugliesi dunque fino al 31 dicembre del 2023 potranno ancora assumere, dopo le opportune verifiche dello stato di necessità, i medici, i dirigenti e gli operatori sanitari in pensione e avviare le relative procedure di reclutamento attraverso avvisi pubblici. La circolare, firmata da Palese e dal direttore del Dipartimento regionale per la salute Vito Montanaro, autorizza i direttori generali, dopo aver verificato l'impossibilità di assumere personale per il corrispondente profilo professionale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorio e concorsuale in vigore, a pubblicare i bandi, ma chiede anche di fornire al Dipartimento una dettagliata relazione in merito al personale in quescenza eventualmente assunto sinora e alla spesa effettivamente sostenuta per ciascun profilo professionale. I medici dirigenti in pensione assunti saranno pagati 60 euro lordi all'ora e il compenso non andrà a pesare fiscalmente sul reddito pensionistico. Negli ospedali pugliesi mancherebbero circa 2.000 medici e nel comparto dell'emergenza urgenza 118 l'organico lamenta una carenza di almeno 200 unità. Difficoltà analoghe non mancano nemmeno nel comparto della medicina generale per far fronte ai posti lasciati da chi va in pensione. La sanità deve rimanere al centro dell'agenda politica, ha detto Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO e dell'Ordine dei Medici di Bari. Serve un intervento specifico sui professionisti sanitari, con le previsioni di un fondo speciale oltre il PNRR, soprattutto per migliorare le condizioni di lavoro e dare una concreta risposta alla questione medica. Anelli ha proposto una indennità specifica per i medici che lavorano nel pronto soccorso per rendere attuativo quel tipo di attività e di incrementare la distribuzione diretta dei farmaci per il contenimento della spesa farmaceutica. Un ulteriore appello e in ultimo arriva da Antonio Perruggini, presidente dell'associazione Welfare a Levante, che chiede all'assessore Palese di dare la stessa possibilità data ai medici in pensione affinché possano prestare la loro attività nelle oltre 500 RSA pugliesi ancora in attesa degli accreditamenti.